Ciao sono Lisa, account manager in Ranstad e oggi sono qui per rispondere ad una delle domande più frequenti sulla mia posizione. Essere account manager significa ricoprire un ruolo a 360 gradi e anche le soddisfazioni sono molteplici. Di sicuro portare valore nella vita di clienti e candidati significa fare la differenza ogni giorno. Aiutiamo le persone a realizzare il loro vero potenziale. Sei pronto a vivere tante soddisfazioni? Candidati subito e diventa account manager. Ranstad, human di professione.